Alla notizia di Bergamo, che è la notizia del giorno insieme a quella dell'EMA, ma ad EMA ci arriviamo. Intanto l'omaggio di Draghi alla città di Bergamo. Lo Stato c'è e ci sarà. La campagna vaccini, vedete dall'home page di Corriere.it, prosegue qualunque sia la scelta di EMA. Ti chiedo intanto subito, direttore, che Draghi hai visto? Perché insomma Draghi non si concede facilmente, oggi lo abbiamo seguito. Che impressione hai avuto? Io credo che intanto era importante e giusto che il Presidente del Consiglio fosse lì a Bergamo in questa giornata. Perché ci troviamo di fronte a una situazione che non ci aspettavamo. Se ci penso un attimo, un anno fa eravamo qui preoccupati, terrorizzati, drammaticamente presi da quello che ci stava succedendo. Però pensavamo tutti che forse per l'estate sarebbe finita. È passato un anno, siamo a commemorare le nostre vittime, a ricordarle, ma lo stiamo facendo quando ancora la pandemia è in pieno sviluppo. In Lombardia ancora siamo in zona rossa, il numero dei morti oscilla ancora intorno alle 400, con picchi di 500 vittime al giorno. Quindi una situazione nel cui orizzonte vediamo forse una via d'uscita, però ancora non ci siamo, ancora siamo in una situazione drammatica. Quindi dice che è assolutamente necessario che lui andasse lì, intanto. Necessario anche perché dopo un anno siamo tutti più estremati, colpiti e forse anche con qualche energia di meno per affrontare questa situazione. Quindi era assolutamente importante anche per una persona molto misurata, riservata, diciamo poco comunicativa proprio per definizione, per scelta, dare un messaggio di speranza che forse, come dire, l'orizzonte non è così lontano all'orizzonte dell'uscita. Mi riaprite un attimo Luca Sappino, perché prima dimenticavo di chiederti, a proposito di scuola, ci sono novità rispetto a quell'ipotesi che sarà detto di tenerle aperte anche a luglio?